Sì, sono bandi in anticipazione sui finanziamenti POR della prossima programmazione e la programmazione sulla quale Regione Toscana ha destinato già 130 milioni di euro finalizzati proprio all'efficientamento sia del patrimonio sede delle imprese sia del patrimonio, sia del tutto quello che è il processo produttivo. In anticipazione sulla programmazione POR Regione Toscana ha deciso di uscire con un'anticipazione di 3 milioni di euro destinato proprio a queste linee di intervento e la presentazione dei bandi che facciamo oggi sono appunto questi bandi e le modalità di inserimento delle domande. Quindi un'attenzione particolare all'ambiente? Certo, la finalità ultima è proprio quella del rispetto di tutta la programmazione energetica regionale e il raggiungimento degli obiettivi del BART e sharing.